ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale handy and made dalle foto di antiprima avete già visto che oggi lavoreremo un maglione la particolarità sta nel fatto che nasce come un pezzo unico si lavora un solo pezzo partendo da una manica si arriva al busto e poi si termina con l'altra manica per questo lavoro abbiamo utilizzato il filato hotello e l'uncinetto numero 8 il filato hotel è particolare un misto lana 50 grammi per 125 metri un po gonfio è anche un po peloso ed è molto molto adatto a questa lavorazione fatta con un uncinetto molto grosso in modo da fare un bel maglione che io ho realizzato in taglia 48 con solo 6 gomitoli quindi piccola spesa e grande resa ma iniziamo subito il nostro lavoro partendo dallo schema come vi ho accennato noi lavoriamo tutto il maglione in un solo pezzo partiamo da questo punto dalla manica saliamo per il numero di giri necessario dopodiché ci allarghiamo per salire e lavorare il busto a metà naturalmente della larghezza del busto ci fermeremo e staccheremo la lavorazione per creare lo scollo si continua e poi dall'altro lato dove dopo aver ridotto andiamo a lavorare l'altra manica si ripiega si cuce e il maglione è bello e fatto io ho lavorato in taglia 48 avendo un girosino di circa 100 centimetri dobbiamo ora vedere come prendere le misure nel caso in cui voi avesse naturalmente una taglia differente dalla mia questo il progetto che abbiamo utilizzato quindi molto semplificato con una manica dritta un busto che uguale davanti e dietro dobbiamo prendere questa misura cioè da un'estremità all'altra e quindi capire quanto sarà lungo il nostro lavoro abbiamo detto iniziamo da una manica e finiamo sull'altra manica questa misura si prende andando da un polso all'altro del nostro corpo mettendo le braccia in posizione dritta quindi andiamo a prendere questa misura in centimetri e questa sarà la lunghezza del nostro lavoro questa lunghezza qui per quanto riguarda il busto invece andiamo a prendere il giroseno quindi giriamo attorno alla ampiezza del giroseno nel mio caso per esempio erano 100 cm quindi ho fatto il busto di 50 cm da un lato e dall'altro sono misure molto semplificate perché abbiamo deciso di fare un lavoro semplice quindi anche per esempio il davanti e il dietro saranno uguali allora andiamo sul pratico mettiamo di avere questa distanza che sia di 120 e di avere un giroseno quindi giriamo poi dietro a questa altezza di 90 come andiamo a rappresentare il nostro lavoro innanzitutto dobbiamo fare 90 diviso 2 e poi dobbiamo fare che sarà 45 e poi dobbiamo fare 120 meno 45 quindi la lunghezza totale 120 meno il busto e sono 75 cm questi 75 cm a loro volta vanno divisi in due parti per le braccia quindi avremo esattamente 37,5 e 37,5 approssimativamente quindi come andiamo a lavorare il nostro busto sarà 45 poi avremo il braccio che sarà 37,5 e l'altro braccio anch'esso sarà 37,5 il totale fa 120 e quindi viene a corrispondere alla misura presa in toto abbiamo quindi capito come lavorare sulla direttrice delle maniche quindi iniziamo da qua e abbiamo capito che proseguiamo in questo senso e come prendiamo la misura dal totale andiamo a togliere le diverse misure per quanto riguarda invece quest'altra misura corrisponde alla lunghezza che vogliamo dare al nostro maglioncino io mi sono fermata poco sotto l'ombelico voi potreste volerlo fare anche più doppio tenendo conto che poi sul laterale possiamo anche lasciare gli spacchetti aperti se abbiamo i fianchi più larghi quindi mettiamo che vogliamo fare un maglioncino che sia lungo 50 cm significherà essendo che lavoriamo contemporaneamente sul davanti e sul dietro significherà che dovremo lavorare 100 cm perché 50 più 50 fa 100 e quindi stiamo studiando questa direttrice che deve essere 100 cm da un lato all'altro come andiamo a calcolare innanzitutto partiamo dalla larghezza che abbiamo dato al polsino della manica mettiamo che il totale della manica aperta sia 35 cm faremo 100 che il totale della lunghezza che do al maglioncino meno 35 che è la larghezza della manica fa 65 questa misura la devo dividere tra il davanti e dietro quindi lavorerò da un lato 32,5 dall'altro 32,5 cm questo totale fa proprio 100 che è la altezza del davanti più il dietro allora queste sono le indicazioni con cui potete calcolare precisamente la grandezza del vostro maglione fatevi questo schema e prendete tutte le misure naturalmente prima di iniziare il lavoro inizio la lavorazione con un filato leggermente più scuro in modo che sia più chiaro in video facciamo la nostra catenella iniziale come abbiamo detto iniziamo dal polsino di una delle due maniche con 40 catenelle tenete conto che questo sviluppato in taglia 48 con una manica piuttosto ampia anche alla polso quindi se volete una manica più stretta perché siete una taglia più piccola oppure avete un braccio molto esile riducete il numero delle catenelle naturalmente facendo un piccolo campione avvio le mie 40 catenelle per la manica sviluppato il numero di catenelle previsto faccio una catenella in più filo sull'uncinetto salto quella che ho appena fatto vado indietro a fare una mezza maglia alta e così faccio per tutte le catenelle di base se ho sviluppato 40 catenelle come nel mio caso mi dovrò trovare 40 mezze maglie alte sviluppiamo l'ultima mezza maglia alta facciamo una catenella e giriamo il lavoro il primo punto sempre una mezza maglia alta lo prendiamo normalmente quindi prendiamo una maglia una mezza maglia alta normale lo facciamo la facciamo normale per il primo e l'ultimo punto per quanto riguarda tutti i punti successivi noi andiamo a prendere questo punto che si trova dietro ovvero di fronte a noi escludendo il punto principale cioè se noi lavorassimo la mezza maglia alta normale andremo a inserire l'uncinetto qui sotto sotto il punto in realtà noi questa maglia ma andiamo completamente ad escludere e andiamo a prendere il lavoro in questa righino diciamo in questa parte della maglia orizzontale che sta dietro il lavoro quindi filo sull'uncinetto entriamo e facciamo una mezza maglia alta filo sull'uncinetto entriamo dietro e chiudiamo a mezza maglia alta per tutto il giro arrivati alla fine del giro lavoriamo l'ultima maglia come la maglia normale quindi non lavoriamo in costa una catenella e abbiamo finito il nostro lavoro si è creato subito ed è molto evidente questo righino orizzontale che poi rappresenta la caratteristica del nostro lavoro come abbiamo visto dalle foto di anteprima quindi prima maglia normale andiamo a prenderla normalmente secco dalla seconda maglia in poi filo sull'uncinetto dove andiamo a lavorare andiamo a prendere questo righino orizzontale quindi escludiamo la maglia principale e ci andiamo a posizionare qui ancora prendiamo la maglia orizzontale che sta più in basso e lavoriamo questo punto che un semplice punto in costa alterniamo questo righino da un lato e dall'altro tante che il lavoro potrebbe essere considerato double fast ultima maglia andiamo a lavorare una maglia mezza alta normale chiudiamo il lavoro e dall'altro lato si è creato anche in questo caso questo carinissimo righino orizzontale andiamo avanti così lavorando sempre in questo punto le nostre maglie quindi andiamo ad escludere tutta quella che è la catena principale ma andiamo a lavorare in costa per tutto per tutta l'altezza della nostra manica abbiamo lavorato la nostra manica per 24 giri siamo partiti dalle 40 catenelle iniziali e siamo quindi saliti eseguendo 24 giri per avere circa 35 cm a questo punto dobbiamo iniziare ad allargare il nostro lavoro per la lavorazione del busto quindi dobbiamo aggiungere 30 catenelle da un lato e 30 catenelle dall'altro lato per avere i nostri 30 cm più sia a destra che a sinistra quindi io ho aggiunto sul lato dove avevo già il filo le mie 30 catenelle dall'altro lato molto semplicemente prendo il filo di un altro comitolo oppure l'altro capo del gomitolo che sto lavorando ci inseriamo nella prima maglia e andiamo facendo un cappiolino ad iniziare il nostro lavoro aggiungendo 30 maglie quindi 234 e così via ho aggiunto le mie 30 maglie chiudo il mio lavoro e sono pronta per iniziare un nuovo giro a maglia mezza alta naturalmente dove ho solo le catenelle lavorerò una maglia mezza alta normale mentre dove ho il lavoro già eseguito quindi sulla parte della manica continuerò il mio lavoro per creare in costa per creare il motivo quindi iniziamo sempre aggiungendo una catenella giriamo il lavoro e lavoriamo tante mezze maglie alte 30 mezze maglie alte tante quanti ne abbiamo avviato per questo giro ho eseguito 29 maglie mezze alte ora lavoro la mia ultima maglia aggiunta e poi inizio sulla parte già lavorata la lavorazione prendendo il filo più basso proseguo in questo modo per tutto il giro naturalmente quando arriverò dall'altro lato dove ho le altre 30 catenelle aggiuntive lavorerò la mia maglia mezza alta normale e poi proseguirò per tanti giri fino a raggiungere l'altezza desiderata nel mio caso devo aggiungere 50 centimetri quindi vedrò quanti giri sarà necessario eseguire ed ecco terminato il mio primo giro del busto ho lavorato anche la parte della manica e ho concluso dall'altro lato il disegno viene comunque continuo e quindi proseguiamo ora la lavorazione per tutti i giri che saranno necessari a raggiungere l'ampiezza desiderata vediamo dove siamo arrivati ho lavorato la manica dopodiché come già ci siamo detti ho iniziato la lavorazione del busto per tutta la sua lunghezza davanti e dietro contemporaneamente ho lavorato 20 giri fino ad ottenere una larghezza di circa 25 26 centimetri a questo punto devo creare lo scollo che sarà semplicemente una fessura attraverso cui faremo passare la testa come prendere le misure questo è questa è la nostra manica ripieghiamo a metà in modo da ricostruire come verrà poi la cucitura quindi sotto la manica cuciremo lungo il busto cuciremo e questo sarà questa è di fatto la metà del nostro maglioncino a questo punto dobbiamo lasciare delle catenelle che non verranno lavorate per creare lo scollo e come prendiamo le misure ad esempio questo il dietro sul dietro lascerò 5 cm quindi metto un marca punti vi faccio vedere poi a che cosa servono questi segnapunti mentre sul davanti che dall'altro lato andrò a lasciare circa 20 centimetri ok quindi marca punti sul davanti 20 e sul dietro 5 questo sarà praticamente il nostro scollo qua lasceremo aperto mentre in questo punto continueremo la lavorazione a mezza maglia alta ma vediamo subito come lavoreremo in modo pratico ho iniziato il mio ventunesimo giro arrivata al marca punti vedete questa è la distanza tra i due marca punti che mi vanno a rappresentare lo scollo conto quante catenelle devo saltare per creare lo scollo e faccio tante catenelle quanti sono le maglie che salterò quindi ho segnato uno spazio di 22 maglie e farò esattamente 22 catenelle questa è la mia ventiduesima catenella quindi attraverso tutto il mio scollo e vado a fare una semplicissima mezza maglia alta nel punto dove vado a ricominciare il mio giro lavorato quindi queste maglie sono saltati attraverso diciamo questo scollo passerà la nostra testa in modo molto semplice vado a lavorare di maglia in maglia le mie mezze maglie alte come ho fatto per tutto il lavoro arriverò alla fine del giro e tornerò indietro fino ad arrivare a questo punto dove ci sono una volta terminato il nostro maglione si presenterà in questo modo abbiamo a sinistra e a destra le maniche il davanti e il dietro con lo scollo disallineato in modo da essere indossato comodamente ho messo la linea tratteggiata perché quel punto dobbiamo ripiegare il maglione che si presenterà a questo punto come in foto e andrà cucito dal polso verso la scella e dalla scella verso la vita quindi entriamo e ci dovremo trovare 22 mezze maglie alte una per ciascuna delle catenelle sottostanti ho lavorato 22 maglie mezze alte ora vado a ricominciare la mia mezza maglia alta in costa fino alla fine del giro lavorerò un totale di 20 giri perché avevo fatto 20 giri per arrivare allo scollo quindi arrivare giusto a metà del lavoro ho fatto un ventunesimo giro dove ho staccato le catenelle e quindi dovrò continuare e terminare il mio lavoro per quanto riguarda il busto con altri 20 giri di cui questo che stiamo lavorando in questo momento il primo quindi vediamo graficamente che cosa abbiamo fatto per raggiungere 50 centimetri circa di larghezza del nostro busto ho lavorato 20 giri poi ho fatto un giro in cui ho staccato le catenelle per lo scollo ricordatevi 5 cm sul dietro più 20 sul davanti in modo che possa passare la testa e poi andiamo a continuare terminare il nostro busto con ulteriori 20 giri anche ci ricorderemo di continuare con la manica e andremo a fare esattamente 24 giri e ad individuare le 40 maglie centrali ma questo lo vediamo quando avremo terminato di lavorare il busto ho eseguito anche dopo lo scollo ulteriori 20 giri quindi in modo da fare il quadrante davanti destro e davanti sinistro uguali sono quindi arrivata a questo punto del mio lavoro ho lavorato la manica mi sono allargata per il busto ora devo andare a lavorare la seconda manica dopo aver fatto naturalmente i 40 giri del busto come faccio devo andare ad isolare le 40 catenelle quindi le 40 maglie centrali e lasciare lo stesso numero a destra a sinistra così come sono partita quindi vado a contare le mie maglie queste sono le mie maglie centrali questa è la parte del dietro e questa sarà la parte del davanti del mio maglione quindi vado a staccare il filo a iniziare la lavorazione sempre in costa retro e vado a lavorare per lo stesso numero dei giri che ho fatto dall'altro lato 24 giri che corrispondono a 35 centimetri segnate sempre con quante catenelle partite quanti giri fate quante maglie in più fate per il busto e così via in modo da potervi trovare in modo corrispondente dall'altro lato con facilità quindi una volta individuate le maglie centrali devo iniziare il mio giro e lo vado ad iniziare sul lato dove ho immediatamente prima il righino orizzontale perché vi dico questo perché se sbagliamo lato quindi invece di iniziare da qua iniziamo dall'altro lato andremo a spazzare il disegno quindi devo avere il righino orizzontale più vicino dall'altro lato vedete che il righino orizzontale distanziato di un giro quindi iniziamo sempre con il mio solito cappiolino fermiamo il lavoro e andiamo a lavorare le nostre mezze maglie alte sempre in costa retro e lo facciamo per il numero di maglie che abbiamo fatto dall'altro lato per esempio nel mio caso era avevamo iniziato con 40 maglie la manica facciamo qualche punto e vediamo infatti che si è andato a ricostruire il giusto distanziamento tra i righini orizzontali quindi ho lavorato bene ho iniziato dal lato corretto a questo punto finiamo questo giro ne facciamo un totale di 24 il nostro maglione sarà pronto per essere cuscito e quindi terminato una volta che abbiamo ripiegato il nostro lavoro sulle maniche possiamo iniziare a cucire sotto la manica e poi in continuità lungo il busto scegliamo qual è la parte che vogliamo tenere all'esterno e cuciamo dall'altra parte ovvero avremo la cucitura all'interno quindi sul rovescio del nostro lavoro io ho cucito con l'uncinetto con un punto basso che rimane piuttosto morbido che ha dimestichezza può anche cucire con la coda lana oppure con il punto bassissimo però il punto basso rimane come ho detto più morbido quindi si evita di fare quelle brutte cuciture che tendono poi a tirare ho cucito già una manica come avete visto ora procedo a cucire l'altra manica con il suo lato del gusto allora ho fissato lungo la cucitura con di marca punti per non perdere la corrispondenza tra un giro e l'altro quindi abbiamo il righino in rilievo sia da un lato che dall'altro che devono combaciare iniziamo dalla manica dalla punta estrema della manica poi provvederemo a nascondere tutte le codine fissiamo con un cappiolino e entriamo in una sotto una maglia e sotto l'altra dall'altro lato e facciamo una semplicissima maglia bassa vi ripeto facciamo attenzione a pareggiare esattamente i due lati in modo che i disegni siano in corrispondenza e soprattutto perché così avremo regolarità nella cucitura da un lato e dall'altro in corrispondenza un semplice punto basso proseguiamo per tutta la lunghezza e praticamente dopo aver cucito sia un lato che l'altro potremmo fare una rifinitura a punto basso intorno allo scollo magari se volete intorno alle maniche e anche alla base del nostro maglione una volta terminata e le cuciture questa è la cucitura che abbiamo sotto la manica mentre nel laterale praticamente invisibile abbiamo la cucitura che separa il davanti dal dietro ho terminato il lavoro facendo un giro torno torno al nostro scollo solo nel punto centrale ho lavorato invece di una maglia normale una riduzione quindi ho chiuso insieme due maglie in modo da creare un andamento un po più a b ho rifinito con un giro a mezza maglia alta anche le maniche e anche la base del nostro maglione naturalmente tutto questo è facoltativo chi volesse il maglione magari un po più lungo può fare anche una fascia a punto elastico alternando una maglia alta presa avanti con una maglia alta presa dietro per dare proprio il classico andamento a appunto elastico la stessa cosa può essere fatta con le maniche che in questo caso sono già abbastanza lunghe quindi arrivano praticamente alla fine del polso volendo si può già dall'inizio del lavoro ridurre il numero dei giri e poi fare successivamente un punto elastico se vogliamo che il polso del nostro maglione sia più stretto della larghezza della manica a voi e alla vostra fantasia naturalmente la scelta di tutte le varianti a questo punto il nostro tutorial è terminato spero vi sia piaciuto e sia un utile fonte di ispirazione per i vostri futuri lavori buon divertimento